La serie TV Il Patriarca scompare nel nulla, fan il lutto per la cancellazione. Prima di guardare il video, ricordati di iscriverti al canale. Una notizia scioccante ha colpito i fan di Il Patriarca, la celebre serie TV, diretta e interpretata da Claudio Amendola. Dopo il trionfo della prima stagione, l'attesa per la tanto agognata, continuazione era alle stelle. Tuttavia, una bomba è stata sganciata, la serie è stata cancellata. La notizia devastante è stata confermata da un attore della serie stessa, niente meno che Raniero Monaco di Lapio, il talentuoso interprete del personaggio di Mario Rizzi. In un enigmatico post sui social, ha gettato un'ombra sinistra sulle speranze dei fan, scrivendo «Seconda stagione cancellata». Ringrazio di cuore tutti coloro che ci hanno seguito con passione e grazie di tutte le belle. La cancellazione è stata come un pugno nello stomaco per i fan, lasciandoli delusi e increduli. Dopotutto, Il Patriarca aveva ottenuto un notevole successo di pubblico durante la sua trasmissione su Canale 5. Claudio Amendola, rinomato attore e regista, aveva dimostrato ancora una volta la sua maestria, sia dietro che davanti alla macchina da presa. Le ragioni di questa drastica decisione rimangono a volte nel mistero, alimentando speculazioni e teorie tra gli appassionati. Nonostante la delusione, i fan si sono uniti sui social per condividere il loro dolore e manifestare il desiderio di un ritorno della serie, in un futuro non troppo lontano. La cancellazione rappresenta un duro colpo non solo per Claudio Amendola, ma anche per l'intero cast e la troupe, che hanno lavorato instancabilmente per creare una trama coinvolgente. La seconda stagione, ora cancellata, è diventata un momento di lutto, per tutti coloro che si erano appassionati alla serie. Nonostante la tristezza e l'amarezza, i fan mantengono la speranza che Claudio Amendola possa presto sorprenderli, con nuovi progetti, altrettanto appassionanti come Il Patriarca. Nel frattempo, continueranno a dimostrare il loro sostegno all'attore e a condividere la loro passione per questa indimenticabile serie televisiva. Ricordati di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sulle news.